ci siamo no ciao amici allora notizia così veloce veloce da domani sul nostro canale car page usciranno una serie di interviste cosa abbiamo detto durante le puntate del tè delle 5 che tutto quanto è nato in inghilterra punti di riferimento e quant'altro benissimo in questa serie di uscite prossime i punti di riferimento siamo andati a prendere quelli over the top cioè siamo andati a prenderli in inghilterra e non sono i nomi sono quelli che tutti abbiamo letto in riviste visto in video e quant'altro dove li abbiamo potuti beccare uno dietro l'altro al carpitali non ci siamo fatti scappare l'opportunità abbiamo portato a casa quello che siamo riusciti a portare a casa noi comunque eravamo partiti armati perché ci eravamo già preparato cinque domande da fare queste cinque domande logicamente sono state fatte a tutti quanti ognuno ha detto la sua e ognuno ha detto la propria idea in queste cinque domande le abbiamo strutturati in maniera tale da far passare un concetto generale su quello che è il car fishing secondo appunto il pescatore che in quel momento parlava in questa preview logicamente non facciamo nomi ma chi già ci seguiva nelle varie instagram stories postate durante i due giorni di carpitali aveva visto qualcosa quindi vi conviene seguire perché se amate il car fishing le parole che hanno detto questi le dovete sapere niente come sempre iscrizioni vari e dappertutto per non perdere neanche una puntata e ci vediamo logicamente su car page ciao